laudetur jesus christus cari amici tele radio ascoltatori e per luigi bianchi cagliesi vi parla oggi per il nostro consueto commento del giorno ci sono tante persone oggi sempre di più che sentono una grave preoccupazione per la perdita delle sicurezze per la mancanza assoluta ormai di giustizia nel nostro paese ma è un problema ormai si sta diffondendo in tutta l'europa comunitaria dovuta praticamente al dilagare di una criminalità sia organizzata che una micro criminalità che dilaga proprio in assenza di sanzioni e di punizioni chiare ormai i cittadini e tutte le persone che vivono una vita normale non parliamo dei padroni delle ferriere dei nostri uomini politici di tutte le persone che viaggiano sulle corsie preferenziali con le auto blu con le scorte e che hanno perso completamente il contatto con la realtà e la percezione anche della gravità della situazione per cui si possono permettere il lusso di fare elucubrazioni puramente teoriche se non demenziali riguardo quello che sta accadendo mentre i cittadini normali le persone che sono costrette oggi a trascinarsi in una vita sempre più difficile sempre più pericolosa sotto tutti i punti di vista anche a causa di questa strutturazione di un vero e proprio regime nel nostro paese che è insensibile completamente a quelle che sono le stanze basilari di una vita normale per le persone che devono sopravvivere in questa giungla infernale in cui siamo costretti oggi a distrigarci quotidianamente dicevo queste persone non vedono più appunto quella che è la realtà in cui noi dobbiamo combattere e sopravvivere ogni giorno vedete che non è soltanto la questione dell'immigrazione che aumenta e che percepisce perfettamente questo regime di impunità e di protezione che assicura l'italia a coloro che vengono anche per delinquere per trasgredire per commettere prepotenze nella convinzione che questa sia la cosa più normale che anzi è un fatto del tutto straordinario avere un paese in modo particolare d'italia che dà garanzie assolute a qualsiasi tipo di prepotenza venga compiuta nei confronti delle persone deboli soprattutto delle persone che si sentono totalmente abbandonate al loro destino vedete cari amici c'era un vecchio detto latino che diceva impunitas est mater insolensia ovvero l'impunità è la madre dell'insolenza ma noi oggi dovremmo dire che l'impunità è la madre della delinquenza perché è evidente che l'assenza di leggi l'assenza di punizioni l'assenza progressiva la scomparsa della giustizia è qualche cosa che è evidente incentiva il compimento del male il compimento di qualsiasi tipo di prepotenza qualsiasi tipo di violenza ci sono dei rapporti anche delle statistiche molto interessanti che io sottopongo la vostra attenzione che hanno rilevato che in questo momento oltre i diciamo episodi di violenza indiscriminata di azioni veramente terribili ai danni di persone che sono sempre più veramente in prive di qualsiasi tipo di difesa è qualche cosa che si sta appunto in netto peggioramento rispetto al passato ma c'è anche un altro tipo di violenza dicevo che sta cominciando a dilagare e che è una violenza perpetrata da persone che colpiscono coloro che ritengono essere persone ancora serene persone felici persone che vivono ancora una situazione pur nelle difficoltà di una certa stabilità e per esempio si moltiplicano episodi di violenze di ragazzi nei confronti di bambini o di giovani che vivono diciamo ancora una situazione di stabilità con alle spalle delle famiglie sane delle famiglie solide e che nella felicità altrui vedono un motivo di odio cioè il disagio terribile in cui vivono questi ragazzi questi giovani in un clima di abbandono totale al loro destino di perdita di ogni punto di riferimento soprattutto di assenza totale di valori morali di riferimento non parliamo della dottrina che ormai è sparita totalmente non esiste più cioè l'assenza di qualunque tipo di riferimento ai valori morali che sta generando di fatto un odio terribile nei confronti di coloro che ancora vivono ringraziando dio una certa serenità una certa tranquillità come conseguenza di situazioni stabili familiari che vengono viste da queste persone con un odio che non si era mai visto e lo hanno detto alcuni di questi giovani che sono stati poi naturalmente arrestati dopo aver compiuto queste violenze che lo scatenamento di queste azioni veramente feroci si è innescato nel vedere la felicità del prossimo capite cosa sta accadendo queste sono le dinamiche che si stanno sviluppando in un mondo che ricorda sempre di più la savana la giungla la foresta in cui diciamo forze occulte forze scatenate incombono da tutte le parti senza più limiti di ogni genere e quello che sta accadendo vedete cari amici ricorda sempre di più quello che accadde durante il periodo che precedette la caduta dell'impero romano quando la nostra nazione venne praticamente aggredita da queste popolazioni barbariche ma prima che questo accadesse regnava un clima assolutamente di corruzione in coloro che ancora detenevano il potere dell'impero romano un clima di corruzione totale un clima un'immigrazione sempre più massiccia e oltretutto una totale assenza di esercizio della giustizia nei confronti di un popolo che si trovava sempre più abbandonato al suo destino in cui animali feroci spadroneggiavano in cui le campagne venivano abbandonate l'agricoltura veniva lasciata perché non era più possibile diciamo dedicarsi a questa attività per questioni anche di sicurezza e allora la foresta cominciava a impossessarsi del territorio e animali di ogni genere venivano appunto si riproducevano senza controllo come sta accadendo oggi esattamente in cui vediamo la stessa città di roma attraversata da branchi di cinghiali ripresi a più volte durante la notte in cui ci sono orsi che aggrediscono persone all'interno dei paesi non nel bosco all'interno dei paesi come conseguenza di tutta un impianto anche ideologico e si sta diffondendo che tollera qualsiasi cosa che permette qualsiasi cosa che vede positivamente qualsiasi tipo di follia umana e abbandona invece al suo destino coloro che dovrebbero essere tutelati difesi e salvaguardati di fronte a questa situazione cari amici noi dobbiamo porci delle grandi delle gravi domande perché vedete san benedetto lo stesso san benedetto che fondò il monachesimo benedettino che è padre dell'europa cristiana in qualche modo il più grande santo che fu l'artefice dell'europa cristiana che poi determinò il medioevo cristiano ebbe un giunto a un certo punto dell'aggravarsi della situazione decise di ritirarsi perché era arrivato il momento in cui costruire iniziare a costruire a partire da una fortissima identità religiosa fedele alla verità una società che si sarebbe andata strutturando attorno ai monasteri benedettini era una questione di emergenza era una questione di sopravvivenza le famiglie abbandonavano la città per andare a raccogliersi ai piedi dei monasteri benedettini e quindi lì trovavano rifugio trovavano sicurezza trovavano quello che poteva servire per curarsi per la sanità per il lavoro per l'istruzione per le cure stesse delle persone malate e bisognose e quindi la crescita di questi villaggi di queste comunità che stringevano come in un cerchio il monastero che aveva il ruolo centrale diventavano poi l'anticipazione di quelli che furono i comuni nel medioevo e la nascita poi di questi feudi dell'età feudale che a partire vedete da queste fortissime identità religiose e da queste realtà che testimoniavano la fede in un modo straordinario strutturavano poi una società organica completa che si sarebbe presa cura di tutti i bisogni delle stesse persone oggi la situazione analoga noi stiamo andando sempre di più in avanti verso una direzione che ci sta portando proprio verso qualche cosa che probabilmente il signore disegnerà presto per il bene di coloro che sono soprattutto rimasti fedeli e che ancora nella difesa della verità sono pronti anche a compiere dei grandi sacrifici ma che poi diciamo porteranno naturalmente ad esiti che saranno quelli che saranno di fatto il germoglio e qualche cosa che determinerà poi la società ci la società cristiana la civiltà cristiana che restaurata finalmente potrà germogliare nel modo più pieno nel modo più totale questo sarà il trionfo il cuore immacolato di maria vedete cioè il trionfo il cuore immacolato di maria sarà proprio questo una rinascita spirituale una rinascita dottrinale in un modo che noi neanche immaginiamo capace di far germogliare tutta una società organica completa che con una forza inimmaginabile andrà germogliando sviluppandosi e poi articolandosi in quello che sarà il nuovo mondo che verrà a ricostituirsi sulle ceneri di questa società decomposta e putrefatta che ormai è qualche cosa che veramente osserviamo con una grande tristezza con una grande commiserazione ma senza perdere la fiducia senza perdere la speranza perché ricordiamo sempre il cuore immacolato di maria è stato dato come nostro sicuro rifugio come pegno di salvezza come pegno di sicurezza per sopravvivere in questa tempesta ancora più grande che si sta avvicinando nel cuore immacolato di maria nostro sicuro rifugio avremo tutte le certezze che ci serviranno avremo tutte quelle garanzie fondamentali per poter transitare cari amici verso questa nuova era che sarà appunto la civiltà cristiana restaurata e il trionfo del cuore immacolato di maria usiamo la prudenza che è la prima delle virtù cardinali ma nello stesso tempo ricordiamoci sempre che il cuore immacolato di maria sarà il nostro sicuro rifugio con l'arma del santo rosario sono state vinte le battaglie più grandi della storia con la consagrazione alla madonna avremo il biglietto d'accesso per entrare nel cuore immacolato di maria nella difesa della verità avremo l'aiuto della divina provvidenza necessario indispensabile per superare sopportare tutte le difficoltà che stiamo vivendo a questo momento e a tutti voi cari amici tele radio ascoltatori l'augurio di una buona giornata laudetur jesus christus laudetur jesus christus laudetur jesus christus Grazie a tutti.